Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Torniamo a parlare di calcio giocato perché in Ligue 1 è stata presa una decisione definitiva. Il campionato finisce qui con tante giornate di anticipo e se lo aggiudica ovviamente la prima in classifica, il Paris Saint Germain. Prima di continuare vi invito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti ad attivare la campanella per non perdervi tutti i miei nuovi contenuti. E soprattutto ragazzi miei lasciate un mi piace per supportare questo genere di contenuti. Vi ricordo anche che ho creato ieri un secondo canale in cui sto pubblicando video che non riguardano assolutamente il mondo del calcio. Se vi interessa cliccate qui sulla in alto a destra e vi rimando all'ultimo video che ho pubblicato, quello che ho pubblicato oggi. Non so se ancora è uscito, comunque cliccando qui lo troverete sicuramente. Quindi la Francia ha deciso, il Paris Saint Germain è campione a differenza dei Paesi Bassi che avevano bloccato la stagione ma hanno deciso di non nominare un vincitore. La Lega francese ha scelto di premiare i parigini, primi in classifica con 12 punti di vantaggio. Vi dico chi andrà in Champions League. Paris Saint Germain, Marsiglia, Rennes, Lille, Rheims e Nizza invece si sono qualificate per l'Europa League. A salutare la massima divisione Amiens e Tolosa, mentre le due promosse sono Lorient e Long direttamente dalla Ligue 2. Quindi io vorrei sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti di questa decisione che hanno preso. Perché si ricollega a quello che è il discorso campionato italiano. Non si sa quel che accadrà qui in Italia. Se riprenderà il campionato, leggevo proprio stamattina una dichiarazione in cui hanno detto se riprende bene, non dovesse riprende perché il governo ha deciso così, pazienza. Chiudiamo il campionato. Quali potrebbero essere le decisioni? Secondo me, e vado a sentore, probabilmente l'idea è quella di uniformarsi a quello che hanno fatto in Francia. Quindi eleggere il vincitore del campionato, assegnare ovviamente i posti in Champions League ed Europa League e probabilmente anche andare ad assegnare posti per quanto riguarda le promozioni e le retrocessioni. Chiudendosi eventualmente anche in Italia questo campionato, ovviamente non ci sarebbe la cosa di di eh ma tocca recuperarlo come facciamo, stiamo stretti coi tempi perché poi il prossimo anno tocca recuperare anche gli europei e via dicendo. Non ci sarebbe tutto sto casino. Si andrebbe direttamente a fine agosto per l'inizio della nuova stagione e ripartirebbe tutto da zero. Insomma, io vorrei sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti. Quindi pensate che sia una scelta giusta quella che hanno fatto in Francia con il campionato francese o pensate che la ragazzi mia il Paris Saint Germain aveva pur sempre quanti punti di vantaggio? 12 se non ho letto male. Ecco, 12 punti di vantaggio. Qua in Italia capite bene che la situazione è un po' diversa. Molto probabilmente il Paris Saint Germain nel campionato lo avrebbe vinto comunque anche giocando le restanti giornate. Ma qua in Italia capite bene e lo ripeto che Lazio e Juventus e non escludo anche eventualmente l'Inter nonostante il distacco dei punti stavano provando a giocasse un campionato. Quindi secondo me il discorso è un po' differente ma c'è anche da capire che so cause di forza maggiore uno deve anche uniformarsi a quelle che sono le decisioni che poi prenderanno. Ma io proprio ve lo sto chiedendo quindi vi lascerò un sondaggino qui in alto a destra. Voi preferireste chiudere subito questo campionato per poi pensare al successivo e quindi concentrarci direttamente su quello? O invece preferireste che finisca, che portino a conclusione questo campionato magari anche andando un po' oltre le tempistiche? Quindi non lo so, faccio un esempio, magari anche a settembre, ottobre e quindi recupera tutte le partite e poi ricomincia subito con un nuovo campionato? Vi ricordo appunto che c'è l'Europeo la prossima estate, quindi vabbè voglio sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti o anche il secondo canale se vi fa piacere lascio tutto in descrizione. Profili social tutto in descrizione, seguitemi soprattutto su Instagram, scusatemi ho tirato uno sputaccio di quelli pazzeschi. Non mi resta che darvi appunto, appuntamento e scusate il gioco di parole, alla prossima con un nuovo video. Chi vivrà vedrà, non vi ho detta la mia, se continua ad andare così ragazzi miei, cioè più andiamo alle lunghe più è difficile concluderlo sto campionato. Quindi so che è una scelta ardua ma mi sa che alla fine devono prenderla. Poi, per carità, dovessimo riuscire a recuperarlo secondo me sarebbe la cosa migliore perché i campionati si vincono sul campo. Lo ripeto, un conto è il Paris Saint Germain che ha 12 punti di vantaggio, anche se mancavano ancora tante partite. Un conto è un campionato così lottato in cui sarebbe meglio, anche sulla partita secca come stava a dirlo dito, io sinceramente parlando, boh, a mali estremi se potrebbe anche far, diciamola così. Partita secca o comunque playoff tra le prime quattro in campionato, però lo vai a falsare comunque il campionato. Perché il campionato si gioca in quel periodo dell'anno, partite regolari, giornata dopo giornata, già che te sei fermato e che poi devi ricominciare. Capite bene che in parte lo farsi a prescindere. Questo è il mio parere, fatemi sapere il vostro qui sotto e vi do appuntamento appunto, scusatemi, alla prossima con un nuovo video. Ciao!